Come reagireste se un vostro amico vi dicesse Bro, andiamo in Giappone? Adesso Ok, partiamo Non ci credo Stiamo per far vedere, stiamo per partire Hey bro, where are we going? We're going to Tokyo Let's go Siamo appena arrivati in aeroporto Fus troppo stavo Mamma mia che viaggione Welcome to Japan Guardate qua come sono gli armadietti E questo è pettacolo Quanta cazzo di roba hai portato Dobbiamo andare via un giorno Allora ci prendiamo un dessert e qualcosa da bere Comunque qua è stranissimo raga Sono stra stanco, mi hai fatto un volo 12 ore Pazzesco, però siamo davvero gasati Bro, questa è la prima volta per te a Tokyo, no? Sì bro, sono stra felice Anche per me la prima volta è wow Wow Cosa è questa roba qui? Cosa cavolo è questa roba qui? È un uovo è questo qua Cos'è? Cos'è che hai preso tu? Io ho preso il Japanese Cheesecake Questo è un Japanese banana Che è una banana e una banana Sembra una banana Adesso assaggiamo, vediamo com'è First reaction Com'è? Bro, stra buono È buonissimo? Devi provarlo Anche questo è buonissimo Devi provarlo Vai, assaggia, prendi un vestitino Sa tipo di passion fruit Buonissimo Sta tipo Che sorridi? Sta tipo di yogurt Sembra un po' yogurt Ovviamente non puoi venire a Tokyo E non prendere il tè Mi sono sbrucciato tantissimo Vediamo se ti scotti anche tu Lui lo sa usare Ah, tu lo sa usare Scusa No, volevo farvi vedere un po' come qui Qua ci sono i cuscini Vi do a capire cosa c'è scritto lì, Fra Scritto giapponese con talento europeo Ah, ma quello è in inglese Scusa, eh No, no Quello che c'è scritto sopra Stava fregando Perché qua leggono al contrario Siete qui come sono i libri, ragazzi Wow Pazzesco Come si legge? Leggono in modo strano Lui è mio zio Qua c'è anche un distributore Tu hai mai assaggiato cose così? Ah, sì Questo qua, sì Questo qua è strabole Di cosa sa? È tipo tè all'erba Sì, io di prendere Provo a prendere questo Questo sembra entusiasmante Tipo latte con il bubble Quanti saranno? Non lo so 5 euro 5 euro Però sono cari qua in Giappone Una bibita a 5 euro Siete pazzi? Ti credo Da quanto è che non vedevo un televisore del genere? Questa è della preistoria Bira deve essere particolare e strana Perché è la birra tipica giapponese A me la birra non piace neanche in Italia Quindi non la berrò Credo di aver perso Panda Boy Ci troviamo in un negozio tipico giapponese Questi mi hanno detto Panda Boy che sono biscotti Pensavo fossero caramelle Guardate qua Sono super, tutto super molto particolare Siete i tipici di Tokyo Nice, nice Dirti, sembra proprio uscito da un cartone animato Non so di cosa sia questo Ma stiamo per provarla Ufficialmente entrati qua Dobbiamo scattarci delle foto Ok Ok, ci siamo 3, 2 Qui stiamo modificando le foto Guardate qua Mettiamo le stelle perché No, perché noi siamo delle stane Qua ci sono dei prodotti tipici di Tokyo E adesso prenderemo qualcosa Questo mi ispira Ho appena preso il pollo fritto E si vede che non è lo stesso che fanno in Italia Assaggiamo Fra è buonissimo Sì, che cosa sa di pollo? Di pollo Com'è? Buonissimo Sono sempre stato curioso di provare Questi che vedo tipo nei cartoni animati Voglio sapere che gusto hanno e cosa siano Non saprei dire cosa siano Ma buoni Ora proviamo invece il vero e proprio ramen La prima volta nella mia vita Let's do it Wow Buonissimo